Ciao a tutti, in questa lezione parleremo di alcuni concetti fisici molto importanti, che sono quelli di lavoro, energia e potenza. È arrivato il momento di introdurre questi concetti molto importanti. Prima di parlare del caso specifico dei circuiti elettrici, è il caso di esporre il loro significato in situazioni più generali, ovvero in situazioni meccaniche, e quindi facendo un riferimento a quanto ho studiato lo scorso anno riguardo al moto e riguardo alle forze, a cui questi concetti sono strettamente collegati. Abbiamo già studiato in meccanica che una forza è qualcosa di invisibile, che può avere svariati effetti sui corpi su cui è applicata. Il più vistoso di tali effetti consiste nello spostamento del corpo su cui agisce, il cosiddetto effetto dinamico delle forze. A partire, ricordando, diciamo così, questo, possiamo definire che cos'è il lavoro svolto da una forza, oppure in alcuni casi effettuato contro una forza, il quale si calcola moltiplicando il valore della forza espresso in newton per lo spostamento del corpo o del suo centro di massa, laddove si trattasse di un corpo esteso, espresso in metri. L'unità di misura del lavoro, che si ottiene moltiplicando una forza in newton per uno spostamento in metri, ha come unità di misura, come abbiamo detto, il joule. Il joule è la stessa unità di misura dell'energia che abbiamo incontrato a proposito dello studio dei fenomeni termici. Per fare un esempio, se io sollevo un corpo di una certa massa fino ad una certa altezza dal suolo, oppure dal livello di riferimento, io compio un lavoro contro la forza di gravità, la quale invece tenderebbe a portarlo in basso. Questo lavoro si può quantificare, si può calcolare, ed è pari al prodotto del peso dell'oggetto, inteso come forza peso, quindi massa per accelerazione di gravità, espresso in newton, tutto quanto moltiplicato per l'altezza espressa in metri a cui l'ho portato. Così, per sollevare da terra un oggetto della massa di circa 100 grammi fino ad un'altezza di un metro da terra, il lavoro da me compiuto contro il campo gravitazionale sarà pari a un joule. Così, nell'immagine, noi vediamo un atleta che sta sollevando un bilanciere di massa complessiva pari a 50 kg, considerando soltanto la massa dei dischi all'estremità, in realtà anche l'asta del bilanciere ha una massa che è intorno ai 5 kg, ma supponiamo di trascurarla, nel sollevarla il sollevatore di pesi compie un lavoro contro la forza di gravità, cioè esercita una forza su quell'oggetto che lo porta verso l'alto, quindi in direzione contraria, anzi in verso contrario rispetto alla gravità. Il valore del lavoro compiuto dall'atleta si ottiene moltiplicando la massa del bilanciere che supponiamo di 50 kg trascurando il peso dell'asta per l'accelerazione di gravità che approssimiamo a 10 m al secondo quadrato e per l'altezza a cui lo solleva dal suolo, in questo caso di 2 m. Questo ci dà un valore di poco inferiore a 1000 J, ovvero ad 1 kJ. Si dice inoltre, altro concetto importante, che il lavoro compiuto dall'atleta è andato ad aumentare di circa 1000 J l'energia potenziale del bilanciere, ovvero quel quantitativo di energia legata alla posizione dell'oggetto rispetto al campo gravitazionale. Più porto un oggetto in alto e più lo vado a dotare di energia potenziale gravitazionale. A questo punto, visto che compiendo un lavoro su un corpo io vado a, possiamo dire così, cambiare anche la quantità di energia che possiede, occorre distinguere a questo punto tra le due forme principali di energia che possono essere possedute da un corpo, che sono l'energia potenziale, quella legata alla posizione, e l'energia cinetica, ovvero quella legata al movimento, le quali entrambe si possono quantificare e hanno come unità di misura il J, dato che i concetti di lavoro e di energia sono strettamente collegati. Fare un lavoro su un corpo, quando una forza fa un lavoro su un corpo, ne va a modificare il suo stato energetico. In meccanica, studio del moto dei corpi e delle sue cause, le quali sono le forze, l'energia potenziale, leggo testualmente dal mio testo, è quella legata alla posizione del corpo, in particolare alla sua altezza rispetto al suolo, e si calcola, come visto poco fa, moltiplicando il valore della sua massa m per l'altezza h rispetto al suolo per l'accelerazione di gravità g. Secondo la formula, è P energia potenziale uguale m per g per h. L'atleta che fa sul bilanciere un lavoro di 1000 J contro il campo gravitazionale va ad aumentare della stessa quantità 1000 J o 1 kJ l'energia potenziale del bilanciere. L'energia cinetica è quella invece posseduta da un corpo in movimento e dipende dalla sua massa m e dalla sua velocità v. Kinesis in greco vuol dire movimento. La formula E con C oppure E con K da kinetic, dal greco e dall'inglese, è uguale al prodotto della massa per il quadrato della velocità tutto quanto diviso 2 o moltiplicato per un mezzo. vediamo adesso una simpatica simulazione tratta dal sito delle simulazioni FET scritto PHET in cui vediamo, sempre in ambito meccanico per adesso, come queste due forme di energia si convertano tra di loro una nell'altra. se io sollevo un corpo fino ad una certa altezza aumento con il mio lavoro la sua energia potenziale. Se a quel punto però lo lascio cadere o rotolare in discesa vediamo che mentre scende di quota e inizia quindi a muoversi stavolta perché è la forza di gravità che compie un lavoro su di lui vediamo che mano a mano che scende di quota perde energia potenziale e acquista energia cinetica. vediamo però altresì che la somma dei due tipi di energia ovvero la sua energia totale rimane costante e questa è una delle leggi fisiche fondamentali e si chiama la legge di conservazione dell'energia. Quindi l'energia come la materia quest'ultima cosa l'abbiamo vista in chimica con la VOSIE non si crea né si distrugge ma si converte continuamente da una forma all'altra. Noi continuamente osserviamo e sperimentiamo intorno a noi e dentro di noi delle conversioni di energia. vediamo un po' di fare qualche esempio ecco questa è una simulazione che si chiama energia con lo skateboard ora che cosa succede? Noi possiamo porre questo mino questa figurina a chiaramente diverse altezze bene la possiamo porre a diverse altezze rispetto al livello di riferimento che è il suolo. L'istogramma che abbiamo a sinistra ci fa vedere l'andamento dell'energia come variano nel corso della discesa l'energia cinetica cioè quella legata al movimento l'energia potenziale e l'energia totale. Io ho trascurato in questo caso le perdite di energia per attrito quindi suppongo un mondo ideale dove l'attrito non c'è e quindi dove il nostro amico con lo skateboard continua ad oscillare all'infinito da un'estremità all'altra della pista altrimenti avremo anche delle perdite che le quali perdite in campo energetico sono sempre come calore dovute all'attrito le quali portano a smorzare porterebbero sempre di più le oscillazioni fino al nostro atleta fino al nostro skater scusate che si andrebbe a fermare esattamente nel punto più basso ma supponiamo che l'attrito non ci sia pongo lo skater nel punto più alto vediamo che in questo caso l'energia totale è tutta potenziale tutta dovuta alla posizione vediamo che cosa succede lasciandolo cadere e teniamo d'occhio l'istogramma vediamo che mano a mano che cade aumenta la sua energia cinetica che è massima nel punto più basso dove l'energia potenziale è zero quindi mano a mano che scende perde energia potenziale e aumenta e sale acquista energia cinetica quando sale dall'altra parte di nuovo l'energia cinetica che era massima nel punto più basso scende e si trasforma in energia potenziale è possibile ovviamente ideare delle piste un pochino più complesse dove possiamo vedere dove abbiamo più salite più picchi secondari e dove quindi possiamo vedere come l'energia potenziale cinetica possano variare in maniera un pochino più complessa in questo caso vediamo ponendolo nel punto più alto come l'energia cinetica raggiunga un massimo dopodiché nella risalita riacquista un po' di energia potenziale e vediamo sempre che nei tratti in discesa perde energia potenziale ed acquista energia cinetica mentre invece nei tratti in risalita vediamo che di nuovo perde energia cinetica quindi perde velocità ed acquisisce invece energia potenziale ecco vediamo anche l'andamento della velocità la velocità è massima in fondo alle discese ed è minima invece in cima ai tratti in salita come vediamo aggiungendo anche l'indicatore della velocità chiaramente posso ideare anche piste un pochino più complesse che abbiano dei giri della morte che abbiano ovviamente dei loop per percorrere i quali sfrutta l'energia potenziale che ha accumulato partendo da un punto che sta più in alto rispetto al legaccio ovvero il loop del cosiddetto giro della morte ci siamo chiaramente divertiti a far fare al nostro mino un po' di giri quello che volevo far notare è che affinché riesca a percorrere il loop ovvero il giro della morte deve partire da un punto che è situato più in alto se io lo faccio partire da un punto a minore energia potenziale ovvero da un punto più in basso rispetto alla cima del loop del giro della morte non riuscirà a percorrerlo tutto anche in assenza di attrito perché non avrà nel fondo non avrà accumulato arrivando a fondo discesa l'energia cinetica necessaria per poter percorrere tutto il loop ecco vediamo lo faccio partire da un punto leggermente più in basso e vedrò che non lo riuscirà a fare si fermerà nel punto di altezza esattamente corrispondente a quello a cui l'ho fatto partire anche in assenza di attrito ecco lo riuscirò a fare per riuscirlo a fare lo devo far partire da un'altezza almeno corrispondente a quella del loop ecco ancora non ha accumulato energia potenziale cinetica a sufficienza da questo punto che è più in alto lo dovrebbe sicuramente riuscire a fare e qui vediamo delle immagini riassuntive in diversi momenti diciamo così della discesa e vediamo come variano i parametri l'energia potenziale vedete l'energia potenziale non c'è più a fondo discesa perché tutta quanta diventata energia cinetica e quando invece sta a metà discesa vediamo che i due valori si equivalgono anche se questi due valori cambiano sempre in ogni punto l'energia totale potenziale più cinetica è una barra che è sempre della stessa altezza quindi questa è una dimostrazione della legge di conservazione dell'energia laddove io inserissi anche l'attrito noi avremmo oscillazioni sempre più smorzate intorno al punto più basso dove poi si fermerebbe energia cinetica e potenziale continuerebbero a decrescere aumenterebbe l'energia termica che qui ho lasciato a zero persa per attrito fino a che alla fine corrisponderebbe esattamente all'energia totale abbiamo parlato finora di energia potenziale gravitazionale ovvero legata all'altezza rispetto ad un livello di riferimento esistono però altre forme di energia potenziale che possono essere trasformate in movimento e di conseguenza compiere del lavoro utile che poi può essere utilizzato anche da noi e può avere svariati utilizzi come andremo a vedere ad esempio qui vediamo dell'energia potenziale in questa immagine rappresentata un altro tipo di energia potenziale che è l'energia potenziale elastica che è quella che viene immagazzinata in una molla tesa oppure compressa quando io comprimo la molla ad esempio da una lunghezza di 50 centimetri di riposo ad una di 20 centimetri una volta lasciata andare tutta quell'energia potenziale di compressione elastica viene rilasciata e viene trasformata in energia cinetica di movimento della molla che torna alla lunghezza originaria e questo può essere utilizzato per compiere del lavoro o ad esempio per spostare determinati oggetti questa energia elastica è proporzionale direttamente proporzionale all'allungamento o compressione della molla elevato alla seconda sempre chiaramente espresso in metri si intende non la lunghezza totale ma l'allungamento o l'accorciamento rispetto alla posizione di equilibrio in questo caso è un accorciamento di 30 centimetri perché da 50 va a 20 e poi dipende dalle caratteristiche della molla quanto è rigida oppure morbida dalla cosiddetta costante elastica ancora altro esempio che abbiamo fatto anzi in realtà prima di quello ecco questo è un altro bellissimo esempio di conversione di energia meccanica da potenziale a cinetica ecco noi vediamo ad esempio questo arciere che accumula tramite la forza la spinta muscolare l'energia dei muscoli della sua spalla accumula l'energia per scoccare una freccia nella corda dell'arco che viene tesa e che quindi si comporta come una molla una volta che rilascia va bene una volta che scocca questa energia potenziale di tipo elastico accumulata nella corda tesa dell'arco viene trasformata in energia cinetica della freccia che si mette in movimento ancora abbiamo parlato di energia potenziale elettrostatica quella che si accumula all'interno di una batteria che si genera nelle batterie in quanto all'interno di una batteria delle reazioni chimiche particolari compiono un lavoro contro le forze elettriche repulsive accumulando cariche dello stesso segno e che quindi tenderebbero ad allontanarsi tra di loro invece le accumulano tutte vicine tra di loro tutti elettroni negativi vicini tra di loro al polo negativo mentre invece nell'altro polo troviamo tutte cariche positive che sono vicine tra di loro quindi la situazione è molto simile a quella di una molla allungata oppure compressa una situazione di tensione tanto che il voltaggio di una batteria è chiamato anche di tensione dovuto al fatto che vengono accumulate tutte vicine tra di loro delle cariche dello stesso segno che non vogliono stare vicine tra di loro quando noi ai due terminali ai due poli di una batteria colleghiamo un filo metallico di materiale conduttore l'energia potenziale si trasforma in cinetica con gli elettroni le cariche negative che attraverso il filo all'esterno della batteria si spostano dal polo negativo dove sono accumulate verso il polo positivo da cui sono attratte per forza tra cariche di segno opposto quindi questa energia cinetica di movimento che si crea appena chiudo il circuito è quella legata ad una corrente elettrica che è movimento di particelle cariche all'interno come abbiamo visto poi di una batteria di nuovo riavvengono le reazioni chimiche che accumulano gli elettroni di nuovo al polo negativo e così fino ad esaurimento dei reagenti la batteria può mantenere la corrente per numerosi cicli ancora anche alcune molecole ad esempio questa è una molecola di glucosio possono accumulare energia all'interno dei loro legami chimici la quale energia è sempre dovuta ad accumuli locali di cariche e chiaramente una volta che questi legami vengono spezzati questa energia diventa poi disponibile per i lavori ad esempio all'interno delle nostre cellule quindi questa è una forma di energia chimica che è sempre di carattere elettrico cioè dovuta ad accumuli di cariche intorno agli atomi oppure agli atomi stessi ancora chiaramente anche il calore di cui già si è parlato è una forma di energia si chiama energia termica ed è sempre ed è in questo caso una forma di energia cinetica perché come già visto il calore o energia termica consiste in un movimento di agitazione su scala microscopica degli atomi e delle molecole che formano i corpi in questa immagine vediamo il sole da cui arriva fino alla terra dell'energia termica tramite il processo dell'irraggiamento tramite raggi infrarossi che sono una forma di energia radiante cioè di quelle forme di energia che si propagano sotto forma di onde e che non comportano uno spostamento di materia questa è una modalità molto potente di trasferimento di energia perché avviene anche nel vuoto nello spazio vuoto che separa il sole dalla terra anche la luce è una forma di energia di energia radiante cioè che si trasmette come oggi sappiamo sotto forma di onde anche il suono è una forma di energia di questo tipo dovuta a vibrazioni oscillazioni onde le quali però sono onde meccaniche che richiedono un mezzo solido per propagarsi nella fattispecie aria e questa è una panoramica di svariate forme di energia quindi l'energia è un qualcosa che non si vede non è come la materia quindi non è un qualcosa di fisico bene di materiale ma che chiaramente opera delle trasformazioni ovvero ha degli effetti sulla materia come detto l'energia si conserva non si crea e non si distrugge ma può essere convertita da una forma all'altra questa scoperta della trasformazione dell'energia da una forma all'altra è stata in età moderna determinante per il progresso della civiltà umana infatti la prima rivoluzione industriale avvenuta nell'ottocento ha avuto come suo cavallo di battaglia proprio un'invenzione chiamata macchina a vapore invenzione dovuta a James Watt a cui vedremo che è poi dedicata a un'importante unità di misura come vedremo alla fine di questo video legata alle trasformazioni all'utilizzo e anche al consumo di energia che cosa faceva questa macchina a vapore convertiva l'energia termica di adesso vediamo subito il video convertiva ecco questo è un video di un modellino di un modellino da museo questa macchina a vapore di cui vediamo un modellino in miniatura convertiva l'energia termica di caldaie a combustibile quella che vediamo rappresentata in piccolo sulla destra dove c'è del combustibile che viene infiammato dallo sperimentatore e questa energia termica prodotta veniva trasformata nel movimento di parti meccaniche di svariate macchine si trattava quindi di una cosiddetta in fisica macchina termica ricordiamo che in fisica si chiama macchina qualunque dispositivo che trasforma una forma di energia in un'altra vediamo che l'energia termica del combustibile che brucia mette in movimento lineare avanti e indietro un pistone al centro il quale poi pone tramite altre parti meccaniche in rotazione la ruota che vediamo a sinistra quindi energia termica viene trasformata in energia meccanica cioè energia legata al movimento di parti sia lineare il pistone sia rotatorio la ruota che andiamo a vedere sulla sinistra la maggior parte dei dispositivi utilizzati al giorno d'oggi sono invece delle macchine elettriche ovvero convertono l'energia elettrica che è sempre cinetica di movimento degli elettroni della corrente elettrica in altre forme abbiamo visto in calore nei forni elettrici o nelle piastre il movimento meccanico e svariati elettrodomestici il luce e suono negli apparecchi radiotelevisivi nelle lampade elettriche e così via questo mutamento che è avvenuto con il passaggio dalla prima rivoluzione industriale alla seconda nel novecento e quindi dall'uso di macchine termiche all'uso di macchine elettriche è avvenuto e ha comportato un grosso progresso perché mentre l'energia termica è legata ad un movimento caotico e disordinato di molecole e quindi è meno sfruttabile gran parte viene persa come calore a bassa temperatura invece quella elettrica deriva da un movimento più ordinato di elettroni all'interno di fili conduttori e quindi può essere convertita in modo più efficiente in altre forme di energia nonostante ciò parte dell'energia elettrica viene comunque persa sotto forma di calore tramite quello che viene chiamato effetto termico della corrente detto anche effetto joule di cui sicuramente parleremo nella parte inerente diciamo così ai circuiti alle trasformazioni energetiche proprio nei circuiti elettrici e nei dispositivi elettrici su cui però a questo punto farò un ulteriore video magari più breve quindi è importante però per adesso ricordare che esiste sempre un'efficienza espressa in percentuale che ci dice quale percentuale della prima forma di energia è convertita nella seconda cioè quale percentuale di energia termica o elettrica viene convertita in quello che a noi serve cioè in movimento di parti in lavoro meccanico in diciamo altre forme ancora di energia radiante per esempio questa efficienza non è mai del 100% e anzi nelle macchine reali è sempre al di sotto del 50% come detto la parte restante della prima forma di energia viene convertita in calore si dice degradato cioè calore a bassa temperatura che non è più utilizzabile e quindi possiamo dire che costituisce una perdita è importante in molte occasioni indicare anche quanto rapidamente viene compiuto un certo lavoro oppure viene prodotta o assorbita energia qui in questo specchietto conclusivo ci sono le tre grandezze fondamentali delle trasformazioni energetiche le prime due le abbiamo già incontrate e abbiamo visto che si equivalgono tanto che infatti si esprimono tramite la stessa unità di misura un newton moltiplicato per un metro un newton di forza per un metro di spostamento ovvero un joule con l'iniziale J dal nome di James Prescott Joule un importante scienziato sperimentatore che scoprì che facendo ruotare velocemente le pale di un mulinello in un recipiente pieno d'acqua la temperatura dell'acqua anche se di pochissima aumentava quindi diciamo l'equivalenza fra il lavoro meccanico e il calore di conseguenza l'inutilità di mantenere unità di misura diverse per due grandezze che rappresentano in realtà la stessa cosa e l'energia ha pure una definizione perché abbiamo detto rispetto alla materia più difficile da definire però quella accettata universalmente nel mondo delle scienze fisiche è dell'energia come la capacità di compiere lavoro la terza unità di misura importante che indica che inserisce un fattore tempo cioè che indica la rapidità o velocità delle trasformazioni o dei consumi o della produzione di energia è quella che si chiama potenza la potenza si calcola dividendo il lavoro compiuto o l'energia prodotta consumata espressa in joule per il tempo impiegato espresso in secondi la sua unità di misura che sarebbe pari ad un joule al secondo viste quelle in gioco nel rapporto nella divisione prende però un suo nome si indica con una w maiuscola come già anticipato e si chiama watt in onore dell'inventore della macchina a vapore di cui si è parlato poco fa per fare un esempio molto semplice se io per sollevare il consueto corpo della massa di 100 grammi fino ad un'altezza di un metro da terra quindi il mio joule di lavoro tanto per capirci se in più ho impiegato un solo secondo per fare quanto appena descritto la potenza impiegata in questo caso potenza impiegata dai miei muscoli corrisponde esattamente a un watt tra i multipli del watt è molto usato il kilowatt k w chilo si intende moltiplicazione per mille un po' come chilometro mille metri chilogrammo mille grammi kilowatt significa mille watt il kilowatt non va confuso faremo magari degli esempi specifici sui circuiti con il kilowattora che invece non è un'unità di misura di potenza ma bensì di energia e corrisponde quindi a 3.600 joule magari vedremo come detto qualche esempio specifico vedendo alcuni problemi relativi ad apparecchi elettrici la prossima volta se questo video vi è piaciuto commentate condividete e iscrivetevi al canale ci vediamo la prossima volta arrivederci a tutti